Quinta corsa in programma a Dagnano, premio Superstar Reaf. Condizionata per soggetti di 5-6 anni sulla distanza del miglio in Salchi ci sono i gentlemen, otto concorrenti al via, dallo steccato, Cars dei Daltri, Alfredo Sorrentino, Dream Road d'Alvio, Luca Venditti, Diogene Laser, Ciro Ciccarelli, Dominus Fass, Michele Immobile, costume nazional, Tommaso Francese, Di Bala ZSFZ, Pasquale Lungo, De Villoppi, Angelo Silvestro, De Lirio, Carmine Orlando Senior. Parte arretrato De Lirio, fanno lo stesso Diogene Laser e De Villoppi. Piano anche l'uno Cars dei Daltri, Dream Road d'Alvio, attaccato all'esterno da Dominus Fass, al più allargo costume nazional, che poi cerca di ritrarsi perché Dominus Fass rimane davanti e corre davanti. C'è l'inserimento di Dream Road d'Alvio e così costume nazional rimane all'esterno. Nel frattempo, dalle retrovie, comincia a muovere Delirio. Quarto d'apertura in 28 e 7, Delirio in terza ruota, scatta, aggira costume nazional ed aggancia a Dominus Fass in testa alla corsa. I due seguiti da Dream Road d'Alvio. 600 in 43 e 4, Delirio va a lungo, attacca Dominus Fass non preciso sulle curve. Comunque Dominus Fass respinge l'avversario, 800 metri in 57 e 7. Dominus, Delirio, Dream Road d'Alvio, gli altri stentano ad inserirsi. Chilometro notevole in 1, 12, 1, 11 e 9, dice il tabellone di centropista. Continua a lavorare ai fianchi Delirio di Dominus Fass. Poi Dream Road d'Alvio, che decide per la corsia interna, adesso muove a largo e prepara lo spunto in anticipo su Diogene Laser. Terza ruota per Dream Road d'Alvio, che all'ingresso in retta d'arrivo si allarga parecchio, però sembra poter attaccare i primi due e passare. Dream Road d'Alvio sta passando definitivamente. Deve un po' gestirlo negli ultimi metri Luca Venditti, ma è in chiaro vantaggio. Dream Road d'Alvio va a vincere su Diogene Laser, mentre per il terzo resiste probabilmente Delirio. Potrebbe essere Delirio al terzo posto. Lotte premature tra Dominus Fass e Delirio hanno spianato la strada a Dream Road d'Alvio, che però corre poco, ma sempre ad alti livelli. Diogene Laser, rivisto in gran condizione, insidia all'avversario negli ultimi metri, ma deve accontentarsi della piazza d'onore per il terzo Delirio, autore come al solito di prova considerevole.